Oggi riapertura dei bar anche se in una maniera diciamo anomala. Allora Raffaele Domai che cosa prova a riaprire dopo due mesi? Sicuramente è un senso di soddisfazione riacquisire quella quotidianità di tutti i giorni. Nonostante le mille limitazioni che ci hanno imposto diciamo iniziamo a fare qualcosa per dare una piccola spinta in avanti. Ecco ma la gente rispetta tutto, viene con la mascherina, con i guanti. Fino a questo momento sono stati tutti rispettosi delle vigenti norme sulla mascherina, sulla distanza. Diciamo che il cittadino si autotutela, bisogna dargli fiducia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!